Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPLi dove per lavori ci sono un chilometro di coda tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno e rallentamenti tra Montelupo Fiorentino e Ginestra in direzione Firenze. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza tra Montelupo e Ginestra con restringimenti per corsi alternativi sulla strada provinciale 12 o per i viaggi più lunghi sull'autostrada 11. In A1 in direzione Bologna corsie di sinistra chiuse tra Firenze Sud e Firenze Scandicci e code a tratti per traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivoco la variante di Valico. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!